Eccoci amici siamo tornati nel salottino di chiacchiere e caffè, stavo già ciaccolando con le nostre ospiti perché ci si cala subito nell'atmosfera della ciaccola. Allora ve le presento subito alla mia destra Maurizia Rossella Perandin, giornalista, scrittrice e poetessa. Benvenuta Maurizia, come preferisci che ti chiami Maurizia Rossella? Maurizia Rossella, come ti piace? Maurizia Rossella, per precisione giornalisti dobbiamo essere precisi, vero Maurizia Rossella? E poi una cara amica che è capitata diciamo qui oggi, ma la conosco in realtà da molti anni, ecco, c'è stata l'occasione oggi di invitarla perché è la responsabile del collano editoriale della casa editrice Cleup con sede a Padova, casa editrice che sta rieditando, vero, quindi con successo il libro di Maurizia Rossella. Certo, siamo la casa editrice di questo fortunatissimo romanzo. Esatto, ma mi faceva comunque, devo dire, il piacere ospitarti a prescindere perché ho presentato molti libri in trasmissione della Cleup, ospitando scrittori, appunto, editi da voi e quindi mi fa piacere anche parlare di un successo della casa editrice. Hai avuto modo, insomma, già di vedere un po' quali sono le nostre pubblicazioni. Sì, vi conosco e in tempi di crisi per la cultura è bello dare notizia che, insomma, c'è un grande impegno e anche un meritato successo di realtà editoriali che, insomma, vanno bene alla faccia anche un po' delle depressioni e delle crisi. Allora, siamo qui per presentare in particolare questo libro, lo ripeto, un successo comunque editoriale, scritto da Maurizia Rossella, strategia della pensione, come non essere interessati, voglio dire, all'argomento, vero? E infatti siete quasi alla seconda ristampa. Eh sì, seconda edizione. Seconda edizione, quindi Maurizia Rossella, intanto per chi non ti conoscesse do qualche nota biografica su di te. Sei nata a Schio, vero? In provincia di Vicenza, quindi sei Veneta Doc, vivi tra i Colli Ugani, la mia amata Sardegna e lo splendido Brasile, quindi sei anche un po' invidiata, immagino. Penso di sì, ma mi invidio da sola anche. Ti invidi da sola? A volte sì. Bene, questa è una cosa molto carina. Sei, allora, lo ripeto, giornalista, poetessa e scrittrice, pubblicato il romanzo, lo mostro, Stellina e Croce, sempre per Cleupo nel 2007, no? Che ti ha, ecco, con questa bellissima copertina di Gustav Klimt, uno dei miei pittori, artisti preferiti. Ecco, Stellina e Croce, una storia originale avvincente che riesce a suscitare un'ampia gamma di sentimenti, mi sto incartando. Ti ha dato un po' il primo successo, no? Questo tipo di romanzo. Cos'è, un romanzo? È un romanzo, sì. Ti ha aperto, diciamo, un po' le porte comunque della scrittura, dell'editoria, insomma, nelle case editrice. Beh, diciamo, se posso intervenire, Maurizia, diciamo che quando è venuta da noi, in casa editrice, Maurizia Rossella era già molto conosciuta. Certo, non era una pinta pagina qualunque. No, no, aveva già pubblicato, se non ricordo male, la raccolta di poesie con... Quattro. Quattro, ecco, sì, 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 ecco. Diciamo che forse come scrittrice, come autrice di romanzi, forse era il primo, però avevi già scritto altre cose per il teatro, certo. Aveva già un nome, un riconoscimento. Sì, 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 sicuramente sì. Ecco, tra l'altro vedo che collabori alle pagine culturali dei quotidiani veneti del gruppo L'Espresso, quindi il mattino di Padova, la Nuova Venezia, la tribuna di Treviso, dove ho tanti amici, quindi colgo l'occasione per salutarli. Scrive monologhi teatrali come Elena Lucrezio Cornaro Piscopia, grandissima donna colta, vero? È stata la prima donna laureata nel mondo, una padovana, quindi un fiore all'occhiello della nostra cultura e dell'università. Oltre che scrivere testi per spettacoli musicali portati in scena dall'Inter Assembly. Inter Assembly. Inter Assembly, non posso dirlo, dillo tu, Andreina. No, lei lo dice benissimo. Inter Assembly. Inter Assembly, bellissimo. Allora, Andrea Palladio, vedo qui Scalpellino Architetto, Antenor, Eroi Migrante, Talismanie, Aline Alone, giusto, Creatura Elettronica, Nadine, Donna di Fiori e Concertazione, scritto con l'apostrofo. Beh, sei veramente prolifica. Insomma, si fa quel che si può, quel che si riesce, quel che viene in mente. Tra un viaggio e l'altro, eh. No, no, anche viaggiando, non solo tra il viaggio e l'altro, perché quando viaggio mi porto dietro il lavoro, a volte se si può il computer portatile, altrimenti i quaderni dove scrivo a mano e mi piace anche molto scrivere a mano. Sì, è vero, quelle cose che sanno un po' anche di antico, bellissima. Ma anche perché così non c'è rumore e nel silenzio si sente solo scorrere la penna e questo è molto suggestivo. Beh, non so se, Maurizio Rossella, non so se ti è capitato di scrivere qualcosa in Barbagia, in Sardegna, lì più silenzio di così, guarda, penso che non ci sia, eh. Sì, è vero. Solo qualche falco, qualche acquida. Meraviglia, soprattutto d'inverno poi. A maggior ragione. Lì è suggestivo, penso. Sì, lì proprio non c'è un'anima, tanto più. Assolutamente. Nei posti di mare tutti dicono, ma come va in Sardegna, è così bello. In Sardegna piove sempre quando è inverno. È molto verde, la Sardegna inverno sembra l'Irlanda, io ci vado sempre d'estate, avendo appunto origini sarde, abbiamo fortunatamente una residenza, la casa lì, e devo dire che d'estate è insomma abbastanza bruciata, più arida, anche se è splendida, selvaggia, ma d'inverno sembra un'altra cosa. Comunque non vorrei dilungarmi che dopo sembra che sono dell'apicinia sarda. C'entra la Sardegna, perché se ne parla anche nella strategia della pensione. Non lo sapevo, ma allora diamo subito in là, perché poi il tempo è tiranno e fugge. Voglio parlare di questo libro, perché intanto ha suscitato e sta ancora suscitando moltissima curiosità, perché la pensione, diciamocelo, è uno delle spide nel fianco di noi poveri italiani e sicuramente è un argomento che interessa proprio tutti a livello proprio molto nazional popolare. Uno va in libreria, in biblioteca, no scusa, sì, in libreria, insomma, dove è già acquistabile vero il libro, butta l'occhio e dice io questo me lo prendo, me lo compro questo libro, perché è possibile trovare anche delle dritte, vero? Ma qualcuno mi ha chiesto, ma questo libro intitolato Strategia della pensione, che è un titolo molto ambiguo, che si presta a varie interpretazioni. Interpretazioni, vediamo la copertina. Ecco, sì, sembra quasi un nome da saggistica, invece non lo è, è un romanzo. Allora, qualcuno mi ha chiesto, ma ci sono dentro le istruzioni per fare le domande all'Inps? Allora la risposta è no. Un altro amico, quando è stato invitato alla presentazione la settimana scorsa, lui fa il promotore finanziario e mi ha chiesto, anzi mi ha detto, ah bello, bello, ha detto, ci sono le istruzioni per come investire i soldi della liquidazione? Allora ho risposto di no. E neanche, neanche. No, non è questo. Questo è un romanzo che parla delle avventure lavorative di un insegnante che si chiama Giovanna Dasole, la quale insegna in una scuola pubblica l'italiano agli stranieri, quindi una scuola aperta a tutte le nazionalità, religioni, colori di pelle, culture, multietnica e questa signora è molto appassionata al suo lavoro fino a che a un certo punto però si stanca perché dopo 37 anni in cui ripeti le stesse cose non ne puoi più e allora aspira a questa pensione che non arriva mai perché sappiamo che in Italia e nel mondo, perché anche in Spagna adesso si va a 67 anni per la cronaca, le leggi cambiano di continuo. Quando arrivano le tasse da pagare arrivano subito i soldi, quando devono darteli ti spostano di anno in anno l'agognata pensione. Infatti, insomma quando la signora vuole sedersi e godersi i suoi diritti le leggi cambiano e non riesce più a raggiungere il traguardo della pensione. Nel frattempo le succede una cosa molto molto fastidiosa che comincia ad avere dei sintomi e si ammalerà e questo libro parla quindi sia dell'avventura lavorativa di questa signora e poi magari io leggerò anche una parte di questa scuola molto particolare di italiano che sono gli stranieri e poi parla anche della scoperta di una malattia e di come uscirne e di come poi arrivare a un lieto fine perché il libro è anche a lieto fine, però c'è sempre poi da passare attraverso questo tunnel molto molto duro. Anche della malattia? Sì. Ecco, volevo dire che ci sono ovviamente molti spunti autobiografici, vero Maurizia Rossella? Sì, ci sono alcuni spunti autobiografici per quanto poi la protagonista che si chiama Giovanna prende una vita propria perché come sappiamo noi che ci occupiamo di letteratura quando si parla di qualcosa soprattutto in terza persona come questo libro e non come prima persona dicendo io ho fatto, io ho detto. Quindi è lei ha fatto, è lei ha fatto, lei ha detto, ecco il personaggio prende una strada diversa da quella che può essere la tua storia di te che l'hai scritto, ecco quindi sì gli spunti sono autobiografici però di fatto alla fine la protagonista prende una dignità propria e la storia non è più la mia ma è la storia di Giovanna da sole. Come di tante persone forse in Italia che si possono comunque riconoscere in questo tipo di situazione. Ecco, chiedo ad Andreina Bardus di ricordarci l'appuntamento importante di oggi pomeriggio diciamo ore 18 e 30, tardo pomeriggio alla libreria La forma del libro. Il libro a Padova in via 20 Settembre, peraltro è una libreria che è aperta da quasi un anno quindi ci fa particolarmente piacere anche, oltretutto siamo stati ospiti per tutti i venerdì di marzo con una piccola rassegna, quindi una selezione di nostre opere narrative. Ecco, quindi l'appuntamento è anche con voi due, ci siete anche voi due, Maurizia Rossella Perandin, viene presentato appunto in via 20 Settembre a Padova. Barbara Codogno fa un po' da moderatrice, presenta anche lei il libro Strategia della pensione quindi vi aspettate insomma che venga un bel po' di gente vista l'attenzione. Diciamo di sì, diciamo che adesso non ricordo quante presentazioni ma ad ogni presentazione il pubblico c'è stato, ci sono state domande, c'è stata partecipazione, c'è stato interesse sicuramente. Sabrina, tu che vivi di cultura, di letteratura, come consideri appunto questo fatto, cioè la presenza, comunque l'attenzione della gente in questi incontri culturali, non è solo una cosa di nicchia, c'è evidentemente una sensibilità? No, diciamo che voglio pensare che non sia solo di nicchia, dopodiché noi essendo casa editrice universitaria la nostra produzione è molto diversificata. Diciamo che negli ultimi anni ci siamo aperti appunto anche alla pubblicazione di romanzi, di raccolte di poesia. Devo dire che, amo pensare che ogni libro incontra il suo pubblico, incontra il suo lettore e viceversa. Siamo onestamente, vorrei dire privilegiati, ma contenti di trovare, come casa editrice, di avere sempre un buon riscontro di pubblico. Ecco, finché ci sono scrittrici come Maurizia Rossella, sicuramente no, lo voglio dire. Questa sinergia. Cioè, Maurizia Rossella ti sei proposta tu alla Cleupo, conoscevi già l'Andreina, oppure avevi adocchiato tu Andreina, che sei la responsabile un po' della linea editoriale. In so e in so. Ecco, e di delle due cose. Le cose sono andate così. Io avevo avuto già rapporti con la curatrice della collana, che si chiama Saveria Chemotti. Ah, è la grandissima professore, infatti, volevamo ricordarlo. Che insegna, vero docente di letteratura, storia dell'alteratura italiana, ecco all'Università di Padova. Quindi, insomma, avanti questo rapporto con la Chemotti. Io avevo sottoposto ancora il primo romanzo, che è Stellina e Croce, che inaugura, no, non ha inaugurato la collana, è stato il secondo, ed è stato pubblicato grazie all'interessamento di Saveria Chemotti. Quando è stato ora di quest'altro, la strategia della pensione, io ho cercato anche case editrici un po' più grosse, ma è molto difficile pubblicare. Io credo, Andreina, che pubblicare un libro sia la cosa più difficile del mondo. Sì, è vero, me lo dicono molti amici giornalisti o scrittori. È difficilissimo. Ecco. E quindi, insomma, non sono riuscita ad arrivare, anche se quasi avevo già un piede dentro all'Einaudi. Questo, bisogna dirlo, perché effettivamente esiste. E questo grazie a Giulio Mozzi, che appunto è stato un mio grande personaggio, insomma, consigliere ed editor, che io ringrazio insieme a Saveria Chemotti nella prefazione del libro. Ecco, quindi, alla fine comunque le cose sono andate in maniera eccellente, perché io sono felicissima di aver pubblicato con Cleopo e sempre grazie a Saveria e poi ad Andreina, perché sono loro due i miei angeli custodi. Ecco, le tue mecenate in qualche modo, vero? Sì, è vero. Soprattutto Saveria, perché bisogna riconoscere che Saveria Chemotti è stata, ha scoperto, o comunque è stata una delle prime a riconoscere il talento e la scrittura di tanti, diciamo, giovani che adesso... Scrittori in erba o giovani? Sì, 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 sì. Beh, solo per fare qualche nome, Bugaro, Mozzi stesso, Massimo Carlotto, Franzoso, lei occupandosi ovviamente di... Tutta l'ultima generazione di scrittori bene e allora le ha scoperti la Chemotti. Sì, sì, sì. Ah, questo non lo sapevo. Mi ha parlato, mi ha criticato, insomma... Mi ha scritto, presentato. Sì, sì. Ecco. Ma come funziona, Andreina? Poi torniamo alla strategia della pensione, perché ho un bel po' di domande da fare alla nostra Maurizia Rossella. Come nasce, non dico un caso editoriale, ma anche già come avviene la scelta di pubblicare un romanzo, perché penso che tu sia responsabile anche di questo, abbia un ruolo anche di scelta, vero? Cioè, come si fa a scartarne uno, a parte i casi evidenti dove non c'è magari la capacità di scrivere al meglio? Beh, diciamo che molti purtroppo si autoliminano da soli. Sì, esatto, a parte queste situazioni che saltano all'occhio. Dopodiché, come nel caso della collana Vicoli, sicuramente c'è la lettura, l'occhio vigile del direttore di collana, quindi in questo caso siamo avvantaggiati come casa editrice, perché ovviamente le proposte hanno il supporto accademico, tra virgolette, non in quanto la professoressa Chemotti è docente di, ma proprio perché c'è una lettura critica. Quindi lei collabora in sinergia con voi? Diciamo che c'è questa collaborazione, poi però Cleop non pubblica solo romanzi che entrano in questa collana strutturata e diciamo che fortunatamente siamo abbastanza conosciuti, quindi ci vengono inviati i manoscritti. C'è sete di questo spazio da parte degli scrittori? Diciamo di sì. Molti bramano, insomma, e gognano di essere pubblicati. Diciamo che i racconti nel cassetto, il romanzo nel cassetto ce ne sono diversi. Tanti, sì, è vero. Non è il suo cassettino con qualcosa dentro di scritto. E devo dire che siamo stati anche, e da una parte fortunati che scrittori si siano rivolti a noi e dall'altra anche forse bravi, in qualche caso, di avere… Certo, perché sono una casa editrice longevata. Quando è che nasce la Cleop? Del 1962, quindi tra un po' 50 anni. Ah, però è quasi 50 anni. Non è poco per una casa editrice universitaria, perché, voglio ricordarlo, Cleop è nata come casa editrice universitaria. Faceva proprio dispense a suo tempo? Dispense. Diciamo, studenti e docenti nel 1962 si sono uniti e hanno pensato di dare avvio a quella che poi nel tempo, negli anni, si è invece strutturata proprio come un'attività imprenditoriale, e quindi con un'organizzazione di azzetta. Ma una geniale anche, certo. E adesso avete tra i vostri fiori all'occhiello anche questo bello romanzo della Maurizia Rossella. Maurizia, allora, la strategia della pensione è un suggerimento, una provocazione? Cioè, c'è effettivamente qualche indicazione di massima o è proprio una storia? No, no, è un romanzo. È un romanzo. È un romanzo. Però ci si può leggere dentro qualche spunto? No, domando perché non avendolo letto. Ma lo spunto è di, se io posso dare dei consigli pratici, no? Ma è quello che la gente si aspetta in qualche modo, penso. Si lavora, si va a lavorare, ci si stanca di lavorare, anche se il lavoro piace, e quindi bisogna adattarsi e farselo piacere fino a quando non si arriva al traguardo della pensione. Sempre più spostato. Ecco l'avviso è questo. Allora, bisogna essere pronti che le leggi cambiano. Quindi non puoi più andare dopo 37 anni di lavoro, ma ci andrai dopo 38, 40, a 60, a 61, a 62, come deve essere. Ma nel frattempo, ecco il consiglio che viene da questo libro. E noi pendiamo dalle tue labbra. Sì, nel frattempo bisogna fare come gli sportivi, e cioè allenarsi. Come per il nuoto, come per la corsa, come per la maratona, come per la bicicletta, bisogna allenarsi ad andare in pensione. Perché? Perché così quando ci si andrà, se ci si andrà, si sarà capace di utilizzare al meglio il tempo libero. Ma questo a livello anche psicologico intendi? Beh certo, infatti qui si parla anche molto di psicologia, e molto non di psicologia in senso di trattato di psicologia, ma come consigli, come nuovo stile di vita quando si arriva alla pensione. Quindi trovare quello che piace, trovare gli hobby che più ci fanno felici. Riverdire le passioni spesso trascurate, vero? Per arrivare preparati al momento della pensione. Quindi non solo come utilizzare la liquidazione, che sarà sempre più esigua comunque. Ma perché ce l'ha Maurizia Rossale la liquidazione? Perché ogni tanto vado al commercialista e mi dice, ma cara, ma tanto quei giovani, mi si riscontra nella categoria, manco l'avrete la pensione. Ma io dico, ma perché devo continuare a pagare lo stesso contributo, i limpi, le tasse? E speriamo insomma che qualcosa serva anche a noi, no? Però bisogna mettere le mani avanti e prevedere quel momento già per tempo. Quindi appunto sfruttare al massimo i propri talenti e sapere cosa ci piacerà fare quando avremo tutto quel tempo libero. E poi comunque si scopre che quando si ha tutto il tempo libero, non si ha più tempo. Perché non essendoci più lo stacco dei ritmi lavorativi e tu hai tutta la giornata a tua disposizione, finalmente cominci a perderlo questo tempo. E come? E lo perdi io. Io lo perdo anche lavorando, però insomma, in che senso lo perdi quando hai tutta la giornata a disposizione? Se ti piace la lettura, leggi molto di più. Se ti piace andare a fare palestra, ci vai molte più ore. Ma allora lo perdi vivendo finalmente, come cantava Scorossi, vivere, un po' come perdere tempo, vivere, no? Citiamo una frase, insomma, di uno dei nostri cantatori. Non si perde tempo quando si fanno le cose che piacciono. Assolutamente. Che può essere anche andare a erbe, adesso che è primavera, raccogliere i piscacani. Io sono già andata a Carletti, Carletti, Bruscandoli e Pissacani. Appunto. Ecco, i piscacani mi sono rimasti un po' indigesti, quindi non li mangio più. Però il risotto con i bruscandoli e Carletti è proprio la sua morte, è meraviglioso. E quindi grandi consigli anche proprio su come vivere a livello proprio di psicologia, di approccio alla quotidianità. In effetti è un'ottima indicazione anche questa, Maurizia Rossella. Mi piace che marti Maurizia Rossella. Bene. Mi piace perché è bello lui. Maurizia Rossella, perché ci sono molte persone che conosco che passano appunto questa fatidica età della pensione, alcuni sembra che rinascano, no? Finalmente, allora forse come hai fatto tu, viaggiano, Sardegna, tu Brasile, si iniziano veramente a dedicare a se stessi. Altri hanno l'horror vacui. Li vedi poveri depressi. Perché non si sono allenati. Non si sono allenati, ecco l'errore. Dovevano pensarci un po' prima. Loro mi dicono tutta una serie di persone, amici appunto in Italia, che poi si è ancora giovani in effetti. Perché oggi, cioè quando uno ha 60, 65 anni, ha ancora magari moltissima energia e costa fatica invece inserirsi mentalmente in una categoria a riposo, no? Per molte persone dinamiche, attaccatissime alla professione. C'è chi cade in depressione. C'è chi cade proprio in depressione, non riesce a vivere serenamente lo stacco, insomma. Poi è anche vero, Maurizio Rossella e anche Andreina, è anche vero che tutta una serie di professionisti possono fare consulenze. C'è anche questo filone un po' di moda adesso, no? Chi non lavora più come prima, otto ore, però può fare delle consulenze e tenersi in ogni caso impegnato, non staccando completamente dal proprio lavoro. Infatti, sì sì. Comunque, se torniamo al nostro romanzo, questa insegnante, che si chiama Giovanna Dasole, la protagonista della strategia della pensione, lavora con un gruppo, con gruppi, tanti gruppi di stranieri. Sì, questo mi hai detto, quindi è multiculturale come situazione. Non so se sia il caso di parlare di questa scuola multietnica. Ci sono parecchie di queste scuole anche a Padova e anche nel Veneto, ci sono in tutta Italia. Quindi, ripropone delle situazioni reali. Sono programmi ministeriali, sovvenzionati dal Ministero della Pubblica Istruzione, quindi non sono scuole private, campate in aria, ma sono delle scuole serissime dove appunto gli stranieri vengono per imparare l'italiano. E allora, mi piacerebbe, ma non so se sia il caso, leggere un brano che parla proprio di questo. Ecco, sentiamo, perché il tempo è fuggito, sentiamo se abbiamo ancora... No, nella chiacchierata siamo avanti. No, allora è troppo poco, andiamo avanti pure a parlare del libro. Ecco, un minuto, Maurizio Rossella, se riesce a leggere, magari non tutta la fa. No, perché poi viene tagliata, altrimenti... No, allora guarda, lasciamo la suspense, Maurizio Rossella. Certo. Invitiamo tutti i curiosi e le persone che ci hanno seguito a venirvi a incontrare e confrontarsi con voi. Oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio alle 18.30, in via 20 settembre, numero 63, a Padova, nella libreria La forma del libro. Quindi, prima occasione da non perdere, l'incontro con voi per approfondire il libro. E poi, davvero, bando alla pigrizia, bando anche lì alla manina corta, andate a comprare il libro, giusto? Certo. Nelle librerie, edito dalla Cleup. E davvero, ci sono... ecco, posso dire il prezzo, tanto costa poco, euro 15, ce lo possiamo assolutamente permettere. Questa è la nostra politica. I libri devono essere alla portata di tutti. Certo, quindi cultura, davvero grande cultura, grandi suggestioni, perché comunque appunto di un romanzo si sta parlando, allora è anche qualcosa di evasivo, ma nello stesso tempo che dà spunti riflessivi importanti, grande cultura a piccoli prezzi. Allora, io vi ringrazio, Maurizia Rossella, la prossima volta, allora magari ti ospito per il prossimo romanzo. Già pronto. Già pronto, allora lo anticipiamo. Parlerà di amore. Ah, meravigliosa. Allora, io che sono una romantica, non potrò non ospitarti anche con la nostra Andreina. Allora, amici, salutiamo e ringraziamo Maurizia Rossella Perandin, scrittrice, poetessa, giornalista, nonché davvero grande viaggiatrice, donna energica e simpatica, e lo stesso vale per la nostra Andreina Bardus, curatrice appunto della casa editrice Cleup di Padova. Io vi auguro un fantastico fine settimana, con gite fuori porta, sole e spensieratezza, come lo auguro ai nostri cari amici che ci seguono sempre con affetto. Un bacio alle vostre, no, vostre, miei ospiti, non vostre. Un bacio a voi, vi aspetto lunedì prossimo, sempre qui nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Buon weekend a tutti e a lunedì prossimo. Buon weekend a tutti. Grazie.